Presentate sabato mattina al Teatro Liglieri le rassegne Giovani in Musica e Concerti della Domenica 2012, organizzate dall'Associazione Musicale Angelo Mariani e promoste dalla Fondazione Casa dei Risparmi di Ravenna. Dunque, sì, sono due rassegne che danno inizio all'attività dell'Associazione Angelo Mariani, cominciando dai Giovani in Musica nel mese di ottobre e novembre e disembre i concerti della domenica. Nei Giovani in Musica, come dice il titolo, è una rassegna dove vengono coinvogliati, diciamo, tanti giovani esecutori di talento e molto capaci in un tema difficilissimo che è il genio di Brahms nella variazione. Sono sette appuntamenti dove si può ascoltare musica da camera di Brahms, quartetto, quintetto, trio e solisti di pianoforte. Cambia la location in questo caso, non più al Teatro Liglieri, bensì una novità. La novità è questa, che andremo nella sala grande del Palazzo dei Congressi, che è in Largo Firenze, e qui abbiamo un ambiente nuovo e vedremo anche che esperienza sarà. E invece per la rassegna i concerti della domenica? I concerti della domenica invece rimaniamo nella sala Corelli del Teatro e ogni domenica dalle 11 alle 12. Sara Pietracci per Avena Web TV.